Andiamo a fare altri esempi di integrali, mettiamo il numeratore. Allora, andiamo a fare altri esempi di integrali, supponiamo di fare l'integrale tra 1 e 6 della funzione 1 su x. Quanto fa questo? Questa è un'altra integrale immediata. Questo fa logaritmo di x, valutato a 6, valutato a 1, quindi fa logaritmo. Ok? O. Ragazzi, se io devo fare il logaritmo in base a di x, sapete fare la derivata di questa funzione? Ricordatevi sempre, quando fate il logaritmo in base a di b, questo è uguale al logaritmo naturale di b fratto il logaritmo naturale di a. Quindi se devo fare la derivata, la derivata fra 1 fratto x e il logaritmo naturale. Chiaro? Non è difficile. La prima cosa che fate, che dovete fare quando avete il logaritmo in disflessione a base diverse eccetera? Riconducetevi al logaritmo naturale. Sapete fare questo, quindi? Questo è banale, perché se io faccio logaritmo in base a di b questo è uguale al logaritmo in base a di e per il logaritmo in base E di B ma il logaritmo in base A di E è il reciproco quindi viene il logaritmo in base E che è il logaritmo naturale di B per il reciproco di B diciamo che viene il reciproco del logaritmo in base A che quindi viene il logaritmo naturale di A se voi fate il rapporto di due logaritmi in qualunque base lo facciate viene sempre lo stesso cioè se io volessi fare il logaritmo in base C di B fratto il logaritmo in base C di A mi viene uguale a questo cioè quando fate il rapporto di due logaritmi ovviamente la base di sole è uguale alla base di sole ok quindi questo fa il logaritmo 6 naturale andiamo a vedere l'integrale da meno 6 a meno 1 di 1 su x quindi x quanto deve fare questa funzione? questa funzione? questa funzione? questa funzione? questa funzione? questa funzione deve fare meno logaritmo 6 perché? la funzione è disparita allora da 1 a 6 da meno 1 a meno 6 questo pezzo qui c'ha la stessa lale di questo qui ma la consegna meglio perché sta girando in su questo quindi e questo perché? come si può vedere? perché se io dico che una primitiva è il logaritmo non funziona perché il logaritmo sui numeri negativi non si può fare allora chi è una primitiva di 1 su x? è il logaritmo del valore assoluto di x provate a prendere questa funzione provate a fare la derivata se x abbiamo due possibilità se x è positivo questo è il logaritmo x f prima di x è uguale a 1 su x se invece x è negativo questo chi è? logaritmo di meno x ma quanto fa la derivata di logaritmo di meno x? e si può fare logaritmo di meno x se x è negativo perché meno x sarà positivo ma la derivata fa 1 fratto meno x per la derivata di meno x che fa meno 1 meno e meno si cancella e come vedete fa 1 su x logaritmo del valore assoluto di x è una funzione pari che fa così la sua derivata la sua derivata è 1 su x però attenzione che io non posso usare questa funzione qui a cavallo di 0 cioè se faccio l'integrale tra meno 3 e 2 di 1 su x in dx questo integrale non esiste semplicemente non esiste perché quando lo vado a fare da meno 3 a 0 vedremo che l'integrale diverge negativamente quando lo faccio da 0 a 2 vedremo che l'integrale diverge positivamente cioè si tratta di integrare in senso generalizzato divergono entrambi non si può dare alcun senso a questa funzione dove cioè non bisogna di prendere quello là sapete che la primitiva è logaritmo del valore assoluto di x lo calcolate in 3 lo calcolate in 2 lo calcolate in meno 3 e fate la differenza no per quale motivo? perché questa funzione dove è definita? è definita in tutto r meno 0 quindi questa funzione qua si può usare come primitiva a sinistra di 0 a destra di 0 ma mai a cavallo di 0 chiaro? a sinistra di 0 tra l'altro se io prendo questa funzione e ci aggiungo una costante a sinistra di 0 e una costante diversa a destra di 0 faccio la derivata la derivata non è sempre 1 su x come vedete le costanti che posso aggiungere a sinistra o a destra possono essere diverse perché la funzione non è definita su un connesso io posso spostarla di quanto mi pare su ogni componente connesso chiaro? quindi quello che vi deve rimanere comunque impresso è il fatto che sì questa è una primitiva di 1 su x ma siccome non è definita in 0 posso applicarla a tutti gli intervalli contenuti nella semiretta negativa a tutti gli intervalli contenuti sulla semiretta positiva ma mai ecco chiaro? andiamo a vederne un'altra andiamo andiamo per esempio a fare l'integrale del logaritmo va bene facciamo l'integrale di 1 fratto x più 3 sin di x tra 0 e 1 chi è una primitiva di questi? è logaritmo di x più 3 valutato logaritmo di x meno logaritmo di x proviamo a fare l'integrale sempre tra 0 e 1 di 1 fratto 3x più 1 è logaritmo di x meno logaritmo di x meno logaritmo di x meno chiaro? quindi quindi voglio fare supponiamo per esempio voglio fare l'integrale di 1 fratto ax più b quindi x che è in grado di x meno logaritmo di x meno logaritmo di x meno logaritmo di x meno logaritmo di x menofter è logaritmo di del valore assoluto di x più b fratto per uno su alter e non comportarti i pulisenni un disegno diciamo supponiamo che A e B però questa cosa qui questa cosa qui dovrebbe essere corretta però una cosa è per x minore di meno B su A o per x maggiore di meno B su A cioè la radice di questo A x più B uguale a 0 è meno B su A quindi potete usare a sinistra oppure a destra ma mai a calato ok? Sì, è giusto questo ok? adesso andiamo a introdurre l'integrazione per parti poi la ripetiamo tante volte l'integrazione per parti nasce da una osservazione molto semplice cioè dalla formula di derivazione del prodotto allora voi supponete allora supponete che F' sia uguale a F' G' sia uguale a G' allora come si fa la derivata del prodotto di F' per G' si fa la derivata della prima che fa F' per la seconda non derivata più F' per G' ok? adesso prendete queste due quest'uguaglianza e integrate tra A e B supponete che F' e G' siano funzioni con B e quindi che F' e G' siano funzioni C' quindi facciamo l'integrale tra A e B di F' di F' per G' di X' di X' questo è uguale all'integrale tra A e B di F' di X di G' di X' più l'integrale tra A e B ma questa quantità qua non è altro che F' di X per G' di X valutato tra A e B perché quella che sta la funzione integrante è la derivata di F' di G' riscrivendo questa formula in un altro ordine la possiamo riscrivere così cioè possiamo scrivere che l'integrale tra A e B di F' di X' per G' di X' è uguale a F' di X per G' di X' valutato tra A e B meno l'integrale di F' di X per G' di X' sempre tra A e B la corrispondente di questa formula di integrazione per parti per l'integrale indefinito è la formula integrale di F' di X per G' di X' uguale a F' per G' meno l'integrale di F' di X per G' di X' qui non serve mettere allora questo è l'integrale definito però quando mettiamo la primitiva questa primitiva qua non serve mettere nessuna costante arbitraria perché c'è ancora un integrale da fare la costante arbitraria si mette alla fine di quando si fa l'ultima integrale che è inutile metterne più di una perché la somma è due costanti arbitrarie ma un'altra è una costante arbitraria quindi questa è la formula per quanto riguarda l'integrale indefinito questa è la formula per quanto riguarda l'integrale definito questa formula ha adesso la applicheremo in varie esercize però ha un problema che è un problema di memorizzazione voi dovete trovare un modo per memorizzarla che più vi aggradi io la ricordo in questo modo F piccolo è la derivata di F grande G piccolo è la derivata di G grande allora che cosa succede? voi spezzate la funzione integrale in due pezzi uno sale cioè di uno dovete fare la primitiva poi fate il prodotto e lo valutereai meno quello di pezzo di prima come prima sale ma stavolta l'altro scende cioè di questa fate la primitiva F grande e l'altro fate la vera ok adesso faremo degli esempi sarà molto più semplice di voi che se quant'è che serve? supponiamo di dover fare l'integrale della funzione logaritmo quindi per esempio tra uno e due allora io non conosco direttamente una funzione che per derivata mi dia il logaritmo però cosa posso fare? posso guardare questo prodotto come uno per il logaritmo ok allora cosa faccio? uno lo tratto come la F piccolo quindi qua mi viene X logaritmo di X valutato tra 1 e 2 meno l'integrale tra 1 e 2 di X per la derivata del logaritmo che fa 1 su X quindi qua quanto mi viene? mi viene 2 logaritmo 2 meno 1 logaritmo 1 che fa 0 e poi qua mi viene X per 1 su X fa 1 integrato tra 1 e 2 fa 2 lo metto 2 meno 1 se lo faccio come integrale indefinito integrale del logaritmo di X questo fa X logaritmo X meno l'integrale di X che è 1 su X quindi X questo viene X logaritmo X meno X più C perché qua viene 1 integrale di 1 fa X più la costanta B adesso qua si può fare facilmente la prova perché voi prendete questa funzione chiamiamola un attimo F grande se questa è F grande e la derivata di questa deve fare questa andiamo a fare F grande prima di X che è la derivata di un prototipo deve fare la derivata di X che fa 1 per logaritmo X più X per la derivata di 1 su X di logaritmo X che fa 1 su X viene 1 meno la derivata di X che fa 1 questo è la derivata e viene la logaritmo X quindi vedete la derivata di questi fa questa ok? quindi non ci sono grossi prototipi o in questo discorso vediamo un po' andiamo per esempio a fare la derivata cioè l'integrale scusate nell'arco tangente di X sempre per far in questo mi fa X per l'arco tangente di X ho fatto sempre 1 per l'arco tangente l'integrale di 1 fa X meno l'integrale di 1 che fa X per la derivata dell'arco tangente che fa 1 fratto 1 più X quadro questo chi è? è X per l'arco tangente di X meno 1 mezzo per il logaritmo di 1 più X quadro qua più costante quindi vi dovete accorgere che 2X è la derivata di X quadro e allora se voi fate la derivata di 2 20 meno più X quadro va 1 fratto 1 più X quadro per la derivata di X quadro che fa 2 questo l'abbiamo fatto così a intuito però poi lo faremo in maniera più sistematica successivamente con le formule di integrazione non però si chiameranno integrazione per sostituzione ok? possiamo fare la verifica certo basta prendere questa funzione e derivare questa qua chiamiamola F grande quando vado a fare la derivata di F grande chi viene? viene la derivata di X fa 1 quindi viene arco tangente di X più X per la derivata dell'alto tangente che fa 1 fratto 1 più X quadro per 2X meno scusate no più X per la derivata di quell'alto che fa 1 fratto 1 più X quadro e basta poi meno un mezzo per la derivata del logaritmo che fa 1 fratto 1 più X quadro stavolta si per 2 perché devo fare la derivata la prossima la derivata di C fa 0 quindi adesso quando semplificate riconoscete che qui c'è X fratto 1 più X quadro qua c'è meno X fratto 1 più X quadro quindi questo se ne va con questo e quindi alla fine rimane l'alto tangente e quindi effettivamente l'integrale è giusto? è chiaro? ok a voglio fare un altro paio di casi notevoli in cui si usa l'integrazione per parti allora cominciamo con un esercizio che non c'entra con l'integrazione per parti cominciamo a fare l'integrale tra 0 e più infinito di alla meno X in dx anche se l'integrale in generalizzato non l'abbiamo ancora fatto però questo esercizio è molto simile a quello che abbiamo fatto prima chi è una primitiva di E alla meno X meno E alla meno X questa va valutata si dice tra più infinito e 0 cioè questa valutazione la facciamo effettivamente valutare a più infinito significa fare il limite a più infinito fin quando questi discorsi li fate con funzione di segno costante non ci sono problemi ok allora quando lo vado a valutare a più infinito questa funzione a quanto tempo a 0 perché E alla meno infinito col meno col più comunque tende a 0 invece in 0 questa funzione vale meno 1 col meno davanti questo integrale fa 1 quindi questo è un integrale di riferimento importante l'integrale della funzione E alla meno X su tutta la semietta positiva fa 1 ok adesso andiamo a valutare l'integrale tra 0 e 1 di X alla N per E alla meno X intendo allora come si fa una primitiva è meno X alla N per E alla meno X valutato da 0 più infinito qui ho integrato la F piccolo è stavolta E alla meno X ho integrato questa o devo fare meno che col meno fa più integrale tra 0 e più infinito di N per X alla N meno 1 per E alla meno X cioè questa qua è quella che avevo chiamato F piccolo questa qua è quella che ho chiamato di grande allora vedete l'integrale di F piccolo è F grande meno E alla meno X poi qua devo fare meno E alla meno X per la derivata dell'altra ma la derivata dell'altra è N per X alla N meno 1 poi c'è il meno davanti quindi meno e meno si lancerano e devo ancora integrare tra 0 e 0 a E perché da 0 più infinito invece di 0 perché qua era più virgol e qua sono sbagliato volevo calcolare questo ora andiamo a fare questa valutazione qua a 0 c'è la X quindi vale 0 a infinito è vero che questo va più infinito ma è vero che questo va meno infinito scusate va a 0 e A meno infinito va a 0 e questo qua se vi ricordate un limite notevole sarebbe X alla N fratto E alla X che per X che tende a più infinito tende a 0 quindi questo qua non c'è quindi abbiamo ricavato la formula dell'integrale tra 0 e più infinito di X alla N per E alla meno X guardate che questa è una funzione di segno positivo non negativo è uguale a N volte per l'integrale tra 0 e più infinito per X alla N meno 1 per E alla meno X quindi X cioè che succede per calcolare questa integrale io tiro una N fuori e la X alla N cala di la potenza di X cala di 1 se ripeto il ragionamento inutivamente a quanto arrivo secondo voi? quanto fa l'integrale di X alla N per E alla meno X? allora vediamo un po' proviamo a farlo con proviamo a fare l'integrale da 0 a più infinito di X al cubo per E alla meno X secondo il ragionamento fatto sopra questo quanto fa? fa 3 integrale tra 0 a più infinito di X quadro per E alla meno X uguale 6 integrale tra 0 a più infinito di X di A meno X perché qua tiro fuori il 2 e la potenza cala di 1 uguale 6 integrale tra 0 e più infinito di A meno X e qua tiro fuori 1 e la potenza cala di 1 questo l'avevo calcolato all'inizio e faceva 1 quindi sostituisco che vale 1 e quindi in totale vale 6 se invece di farlo con X cubo lo faccio con X alla N che succede? N fattoriale uguale N fattoriale quindi se io devo fare l'integrale di X alla 7 per E alla meno X tra 0 e più infinito quanto fa? 7 fattoriale bene andiamo a fare un altro integrale allora supponiamo di dover fare l'integrale della funzione sen quadro di X anzi facciamo cos quadro di X e più seno solo per una questione di seno allora questo chi è? cos quadro posso scrivere come coseno per coseno proviamo a fare una integrazione per parte allora integra per coseno viene seno quindi viene sen X cos X meno l'integrale la prima sale quindi l'integrale di coseno è seno di X la seconda scelta la derivata di coseno è meno seno quindi per meno per meno fa più quindi otteniamo questo uguagliato però posso anche scrivere che questo è sen X cos X più l'integrale di 1 meno coseno quadro di X perché sen quadro è uguale a 1 meno coseno quadro ci siamo? adesso poi meno coseno quadro l'integrale di meno coseno quadro lo porto a sinistra e mi viene che 2 l'integrale di coseno quadro di X in D X è uguale a seno di X cosen X più l'integrale di 1 fa X più la soglia costante di meno coseno quadro quindi dividendo per 2 l'integrale di coseno quadro X quindi X fa un mezzo sen X coseno X più X più X mezzi più C dice perché non ci ha messo C mezzi perché la metà di una costante è un'altra costante albitarica la chiamate C' o C' lo richiamate C' ok 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 uno dice ma si può controllare? è certo che si può controllare prendi fai la derivata di questa quando fa la derivata di questa? fa un mezzo la derivata di questa si fa derivata di seno è coseno quindi fa cos quadro di X ora la derivata di questa è meno seno quindi meno sen quadro di X più un mezzo però guardate che questo è un mezzo cos quadro di X più un mezzo che moltiplica uno meno sen quadro di X ma uno meno sen quadro fa coseno quadro quindi un mezzo coseno quadro più un mezzo coseno quadro fa coseno quadro e vedete che funziona un altro modo di fare questo stesso integrale è ricordarsi vi ricordate le formule di duplicazione? le formule di duplicazione vengono dalle formule di addizione allora coseno di 2X è uguale a coseno quadro di X meno sen quadro di X se preferite però questo lo posso scrivere anche così come 2 coseno di 2 coseno quadro di X meno uno perché aggiungendo diciamo aggiungendo e sottraendo coseno quadro qua viene 2 coseno quadro qua viene meno sen quadro meno coseno quadro che fa meno quindi posso anche scrivere che coseno quadro di X è uguale a 1 più coseno di 2X quindi l'integrale di coseno quadro di X quanto deve fare? deve fare un mezzo X che è l'integrale di un mezzo più seno di 2X quarti perché quando faccio la derivata di seno di 2X viene 2 coseno di 2X allora per uscire un mezzo sotto ci dobbiamo entrare qua chiaro? più C ma saranno lo stesso? certo perché se vi ricordate adesso la formula di duplicazione del 0 seno di 2X è uguale a 2 seno di X coseno di X 2 seno di X coseno di X qua ti fa un mezzo seno di X coseno di X e vedete che è più allora come vedete quando abbiamo a che fare con le funzioni trigonometriche molto spesso gli integrali hanno più di uno svolgimento cioè nel senso che a volte succede che il risultato dell'integrazione si presenti fatti in un modo si presenta a un aspetto fatti in un altro modo c'è un aspetto che sembra apparentemente completamente diverso ma poi vai a vedere la stessa situazione chiaro? ci sono casi molto più eclatanti di questo allora un modo molto semplice di verificare se la funzione sia la stessa tu le hai fatte in un modo le hai fatte in un altro modo gli vai a fare il grafico dell'uno gli vai a fare il grafico dell'altro e vedi se differiscono per una costante se stiamo parlando di integrale se sono due primitivi devono differire per una costante chiaro? se non è evidente di primo acchito ok quindi questo è un caso nel quale l'integrazione l'abbiamo fatta tramite la formula di integrazione per parte ovviamente lo stesso discorso vale anche per potenze di ordine superiore oppure per per esempio se voglio fare l'integrale di x per seno di x beh, qua si applica un meccanismo molto simile a quello che abbiamo usato qua cioè cosa faccio? faccio la primitiva di seno che è meno x cos x la primitiva di seno è meno coseno moltiplicata per l'altra che ho lasciato stare più l'integrale di cos x devo fare la primitiva di meno coseno per la derivata dell'altra che fa 1 con il meno davanti quindi qua mi viene meno x cos x la primitiva di coseno è sen x più costante ripeto il controllo soprattutto degli integrali indefiniti è estremamente semplice perché si tratta di prendere questa funzione derivare e controllare che sia uguale alla funzione integrale quando noi andiamo a derivare poi viene meno coseno di x più x sen x più coseno x questo e questo se ne va e rimane x sen x quindi come vedete funziona e se avessi dovuto integrare integrare x quadro per seno di x se avessi dovuto integrare x quadro per seno di x se avessi dovuto integrare x quadro per seno di x questo avrei ottenuto ottenuto meno x quadro coseno di x più 2 integrale di x per coseno di x, uguale meno x quadro coseno di x più 2 x seno di x meno 2 integrale di seno di x. Uguale meno x quadro coseno di x più 2 x seno di x meno anzi più 2 coseno di x più c. Facciamo il controllo, prendiamo questa funzione, la delineiamo, questo è la derivata di un prodotto fa più x quadro per seno di x meno 2x coseno di x, qua ne viene più 2x coseno di x più 2 seno di x meno 2 seno di x e basta. Quindi come vedete qui sfruttiamo il fatto che quando una funzione, avete una funzione di tipo esponenziale, di tipo seno coseno che quando andate a integrare la derivata rimane più o meno dello stesso tipo, nel caso del seno, la derivata di coseno è coseno, la derivata di coseno è meno seno, si scambia semplicemente di tipologia, allora integrando per parti, se l'altro è un polinomio, l'altro ha la derivata mano a mano, prima o poi arriverete a un pezzo dove le derivate non si stanno più, perché nella derivata di un polinomio a un certo punto fa zero, le derivate successive. E quindi, in questo modo possiamo integrare qualunque polinomio moltiplicato per seno di x o per seno di x. Se voi prendete seno di x o per seno di x o per un polinomio, integrando per parti si riesce a ottenere qualunque integrati un polinomio per seno di x o per un polinomio. Allora, facciamo un attimo il ripeto, li vedo stanchi più di me. Allora, che abbiamo fatto oggi? Abbiamo detto, per fare l'integrale vale la definizione che abbiamo dato ieri, ma certe volte, e solo certe volte, perché in generale non è che sempre si riesca a fare, per fare l'integrale di una funzione f piccolo, basta trovare una sua primitiva f grande e valutare se l'integrale è definito tra e b, valutare questa primitiva tra b ed a. Questo è l'oggetto del teorema fondamentale del campo integrale. Abbiamo dato degli esempi in cui questo non si riesce a fare, però abbiamo fatto, poi cominciato a fare tutta una tabella di integrali immediati, rileggendo la tabella delle integrali al contrario, poi abbiamo cominciato a usare qualche formula, qualche, diciamo, artificio, per esempio la formula di integrazione per parti, per cercare di integrare, di trovare la primitiva in quanti più casi è possibile. La prossima volta, domani, diciamo giovedì, sistemiamo un po' di teoria, la prossima volta, poi, che facciamo esercizi, faremo, diciamo, il principale strumento di integrazione, che sarà quello per questo senso.